Voglio iniziare questo video con questa immagine che va a fare la sintesi del discorso. Questo è un articolo che è stato scritto nel 2018, esattamente da Chris Herd a settembre del 2018. Ci parla di come i soldi, per come li conosciamo, non dureranno per sempre e questo è garantito. E in questa immagine ci fa vedere una progressione tecnologica e un'evoluzione che, a detta dell'autore dell'articolo, è scontata. Questa è una tematica forte, insisto su questo argomento perché è la base e in questo momento storico dobbiamo prima capire il perché nasce Bitcoin. Che nasce in un momento molto simile a questo, ancora non lo stiamo tastando con mano quello che potrà accadere e le conseguenze che questa crisi potrebbe portare. Ma abbiamo visto le avvisaglie nel 2018, ossia alla genesi di Bitcoin. Genesi che arriva per Bitcoin in un momento in cui il sistema già aveva dimostrato di essere malato. E questa progressione, come ho detto, è una progressione tecnologica. Ci sono dei punti che voglio evidenziare proprio per far capire di quando si parla di tecnologia, non riguarda solo qualcosa di informatico, ma tecnologia è un qualsiasi mezzo l'uomo utilizzi per progredire con la sua innovazione. Quindi anche la banconota è una tecnologia, anche il contante è una tecnologia. Ovviamente la carta di credito è ovviamente Bitcoin. Questo è un progresso che voglio andare a sottolineare, che voglio andare a ripercorrere oggi, anche grazie a quest'articolo molto breve ma ben scritto. Prima di farlo voglio ringraziare un utente su Discord, che si chiama Lorenzo, il suo nickname, quindi non vado a rivelare nessuna identità, che mi ha suggerito il podcast di Anthony Pompliano, podcast numero 266. Ok, l'ho già ringraziato anche privatamente, perché mi ha fatto scoprire questo bel discorso tra Pompliano, tra Anthony e Jeff Booth, che va a parlare di come ci sia un possibile passaggio a un sistema deflazionario o deflattivo. Insomma, come è necessario che prima o poi si torni alla deflazione. Questo podcast è stato per me molto interessante, proporrò più avanti alcuni spunti presi da questo podcast, ma in più ho già anche iniziato il libro, che è stato rilasciato da pochissimo, The Price of Tomorrow, che secondo me è molto interessante. Non è che voglio proporvi questo libro, non ho nessun interesse a farlo, solo per dirvi che andrò a leggerlo e voglio poi riportare qualche spunto che magari viene, perché secondo me è un discorso molto interessante, che si ricollega in modo forte a questo discorso qui, al discorso anche più generico del capitalismo e soprattutto al discorso Bitcoin preso come standard. Infatti, prima ancora di analizzare quel libro che ancora devo leggere, quindi non posso darvi un giudizio, vi consiglio caldamente di leggere il libro The Bitcoin Standard, perché secondo me il miglior libro che ho letto, personalmente il miglior libro che ho letto, riguardo a Bitcoin, dove di Bitcoin ne parla a livello tecnico nella parte finale neanche troppo, ma la gran parte del libro è proprio focalizzata sul perché c'è bisogno e perché si sta evolvendo, in modo quasi naturale, quella che è la nostra abitudine economica verso un sistema decentralizzato, perché ne abbiamo bisogno, perché nella storia tutti gli altri sistemi hanno fallito, spiega che cos'è un easy money, che cosa sono le hard money, cosa sono le sound money, quindi tutti questi discorsi che ho spesso fatto li trovate ben scritti, veramente ben spiegati nel libro The Bitcoin Standard. Non ho nessun interesse nel promuovere quel libro, non ci guadagno nulla, ma lo faccio proprio per ampliare la conoscenza del settore. È sotto gli occhi di tutti che la realtà è che stiamo passando a una società cashless, forse neanche ce ne siamo accorti, ma già ci siamo dentro, praticamente non c'è più l'utilizzo di banconote, di monete, quelle sono veramente una percentuale minima di quello che andiamo a muovere a livello finanziario, la maggior parte è digitalizzato, è un spostamento e una contabilità digitalizzata all'interno di database. Questi database, questi registri di dati, sono centralizzati, cioè vengono gestiti da poche entità, in particolare dal settore bancario, no? Mi piace tantissimo questa frase semplice che proprio racchiude il discorso. Non importa quello che pensiamo dei soldi, cioè non è importante cosa ne pensiamo, qual è il nostro valore anche a livello affettivo, qual è la nostra percezione. Quello è tutto un qualcosa che ci è stato messo sopra. Quello che conta e che bisogna capire è che i soldi sono una tecnologia e devono essere un mezzo di scambio. Servono per semplificare la nostra vita. Abbiamo una nostra produttività, un nostro lavoro, un qualcosa che produce valore. Ci serve un qualcos'altro, quindi necessitiamo di un altro prodotto. Non possiamo in modo diretto scambiare sempre, spesso e volentieri non si può fare, scambiare quello che noi facciamo con quello che ci serve. Ci serve un mezzo di scambio, qualcosa che sia in mezzo, che vada a convertire il valore che noi produciamo e posta a scambiarlo con il valore che qualcun altro produce. I soldi sono solamente questo, nient'altro di più, quindi non devono essere concepiti come un... non bisogna attaccarci qualcos'altro. Da questo punto di vista possono essere visti come pura tecnologia. In ogni fase della storia, quando è arrivata una tecnologia migliore, ha sempre soppiantato quella peggiore. Questo è il concetto di base che mi piace di questo articolo. Il problema in questa tecnologia che ormai è antiquata è che si basa tutto sulla fiducia su un ente centrale. Praticamente noi ci fidiamo dei soldi, utilizziamo quel mezzo di scambio e quella tecnologia, quindi il contante che conosciamo, le fiat currency, perché abbiamo fiducia nel governo che le emette. Quindi stiamo praticamente dando tutta la nostra fiducia a che qualcuno centralizzato gestisca al meglio la situazione. Il problema è che siamo arrivati, ma anche adesso lo stiamo vedendo per bene, quando è stato scritto questo articolo nel 2018, diciamo che la situazione era già leggibile, ma non si toccava con mano. Adesso la tocchiamo con mano. È una gestione che è stata fatta male. È stata fatta male da tanti punti di vista. Spesso e volentieri si tende a salvare determinate situazioni con delle scuse. Vi faccio degli esempi molto molto semplici da capire, senza fare i nomi. Ci sono delle società che dovrebbero in qualche modo fallire, perché non producono, non hanno un valore aggiunto, non portano valore alla nostra società. Quindi la gestione che noi abbiamo affidato a un ente centrale, quell'ente centrale dovrebbe capire che quella malgestione dovrebbe finire e chi è responsabile, che ha guadagnato parecchio per quella gestione societaria, fatta male, dovrebbe pagare il suo conto. Invece no, siccome si mette con la scusa che la gestione societaria di quel caso specifico potrebbe portare magari tanta disoccupazione e tante persone a perdere il lavoro, che è una scusa, perché le persone che perdono il lavoro, ma hanno un qualcosa, mostrano e dimostrano di avere un valore a loro volta, troveranno un'altra occupazione, ma è inutile mandare avanti un qualcosa che non produce nulla, che non porta vantaggio alla società in generale. Quindi per mantenere queste situazioni a galla, spesso e volentieri subentra quella che dovrebbe essere invece un ente terzo, un ente neutro, ecco, che non dovrebbe salvare, dovrebbe essere imparziale in alcune situazioni e far gestire il tutto. Questo sarebbe il vero concetto di capitalismo, dove effettivamente la società o le società che si muovono meglio nel settore sono quelle che sopravvivono, il resto va a essere filtrato da una sorta di processo naturale, evoluzione naturale delle cose. Quindi chi porta più valore, chi fa crescere, chi porta più innovazione e quindi più benessere alla società in sé totale, va a progredire, va a continuare ad esistere, mentre il resto, bene o male, va a sparire perché fallisce. E il fallimento non è da vedere come una cosa negativa, anche di questo ne ho parlato spesso. Il fallimento è propedeutico, perché se non si sbaglia, non si capisce dove si può migliorare. Però se ogni volta che si sbaglia, si cerca di salvare e mantenere quella situazione sbagliata, erronea, insomma, malata, a quel punto non si esce più e alla lunga si paga un conto molto più grande di quello che si sarebbe pagato in principio. Questo è un concetto abbastanza generale che sto portando avanti in questo momento qui. Di base, tornando all'inizio, il concetto è che ultimamente, negli ultimi 30 anni quantomeno, abbiamo costruito il tutto su una tecnologia che si è rivelata in qualche modo antiquata. Abbiamo adesso a disposizione una tecnologia che potrebbe portare questo sistema ad eliminare il discorso fiducia. Come vi ho detto spesso, questa tematica è centrale per chi approccia le crypto e approccia Bitcoin. Bitcoin toglie il discorso fiducia, non dobbiamo più fidarci di un ente centrale. E questo è il primo punto che ci fa anche vedere quest'articolo. Quindi non ci dobbiamo più fidare di un governo centrale che regna sopra di noi e ci prescrive delle polisi monetarie pericolose che dobbiamo per forza accettare. Questo è il secondo punto, è quello che vi dicevo un po' più dilungato, ossia non dobbiamo più accettare situazioni di austerity che poi ricadono su di noi quando si aumentano le tasse, quando dovremmo fare dei sacrifici noi, perché magari siamo forzati a farlo, perché c'è l'intervento del governo per salvare alcune situazioni o collassi finanziari e non c'è nessuna punizione per chi ha causato quei disastri finanziari. Questo sembrerebbe essere molto generico come discorso, ma per fare un esempio pratico più concreto vi riporto proprio a quando Bitcoin nasce, al 2008, quando è scoppiata la crisi del 2008 che in pochi di noi conoscono veramente, sanno solo le conseguenze, ma la causa è stata quella di avere una gestione sbagliata da parte di tanti e tanti business, ossia banche commerciali e altri istituti finanziari. Beh, la maggior parte dei manager e di chi è stato coinvolto in quel gran casino che si è creato non ha pagato nessun conto. È saltata sì una banca, una banca grande, quella di Lehman Brothers, ma si è cercato di mettere subito, tagliare il cortocircuito e praticamente non far saltare più nient'altro, perché altrimenti ci sarebbe stato un collasso molto più grande di quello che abbiamo visto. E questo discorso è stato fatto sotto gli occhi di tutti, dove i soldi gestiti da un governo centrale sono arrivati ad intervento per salvare quella situazione, ma effettivamente nessuno ha pagato le conseguenze di quella malgestione. Nessuno? No, non è proprio vero, perché effettivamente l'abbiamo pagata tutti, tutto il mondo, perché tutti noi, tutte le fasi che abbiamo avuto di crisi negli ultimi anni, dal 2008 fino a oggi, tutta la crisi è stata pagata da tutta la popolazione. E se questo è, in qualche modo, decentralizzato, quello che non è decentralizzato è la decisione iniziale di prendere i soldi di tutti e salvare qualcuno. Eh, non penso che qualcuno mai ha consentito questa manovra qui in modo decentralizzato. Quindi, perché poi pagare le conseguenze e la ripercussione su tutto il mondo? Questo è un discorso molto complesso. È questo quello a cui allude questo articolo. In generale, il nostro futuro non deve essere più dipendente dai capricci dei governi. Questa è la nuova tecnologia che viene proposta grazie alle cripto e a bitcoin in particolare. Adesso i giudizi su questa struttura ovviamente possono essere molteplici e le critiche ancora di più, perché si sta parlando di un qualcosa che vuole cambiare le regole del gioco, vuole cambiare il paradigma, quindi è anche giusto essere critici perché prima di spostarsi su un qualcosa di nuovo bisogna capire se questo effettivamente potrebbe o non potrebbe funzionare e andare proprio a scandagliare quelle che sono le criticità, le problematiche che si potrebbero presentare. È molto stupido invece e superficiale andare a fare un'analisi su questo tipo di tecnologia andando solo a guardare quello che è il prezzo o ancor meno andando a giudicarlo solo magari in base all'analisi tecnica dei mercati. Questo è molto, molto superficiale. Quello è uno strumento per chi fa un certo tipo di operatività su questo asset e magari ci fa una speculazione, ma tutto non nasce per quel discorso. Quello è uno strumento addizionale e che tante volte si traduce in pubblicità per il settore perché effettivamente è stato anche l'asset che si è apprezzato di più negli ultimi dieci anni, bitcoin. Ma perché lo ha fatto? Perché questo ha preso valore? Semplicemente perché sempre più persone capiscono questi concetti e quindi entrano in questo meccanismo dove, male che va, ho un qualcosina anche lì. Perché? Perché se questa tecnologia dimostra quello che vuole, il valore che ha costruito, che costruisce, beh, a quel punto potrebbe rimpiazzare il vecchio sistema e una piccola scommessa tanto vale farla anche perché rischio di perdere tutto il vecchio sistema. Da questo punto di vista, prima di tornare a quest'articolo e andare verso la conclusione, voglio anche riportarvi un report che arriva nella giornata del 16 aprile, quindi freschissima, 2020, che viene fatto da Grayscale che è una delle società finanziarie, diciamo istituto finanziario per investimenti, per investitori istituzionali, più importante che c'è nel settore perché permette ai investitori istituzionali anche di Wall Street, insomma, grandi investitori, di poter mettere delle percentuali su asset digitali come crypto, bitcoin, ethereum e altre. Insomma, dei fondi in crypto, uno dei più importanti. Da qui esce il primo report di quest'anno, report del quarter one, quindi del primo trimestre del 2020, con dei dati molto interessanti. Perché questo articolo sta facendo già il giro del web? Perché effettivamente possiamo vedere per la prima volta dei dati ufficiali di come i grandi investitori stanno approcciando a questo settore, quello crypto. Senza dilungarmi troppo, magari vi lascio a voi poi eventuali analisi su questo report, ci sono dei dati veramente interessanti. Innanzitutto vediamo che l'1,7% di bitcoin esistenti sono in mano a coloro che hanno investito in questo fondo. E questo è cresciuto tantissimo, lo possiamo vedere negli anni e guardate qua nel 2020 quanto è cresciuta la percentuale degli investitori su bitcoin. Qui possiamo vederlo ancora meglio con anche la suddivisione sui vari asset digitali, tra i quali c'è anche ethereum che spicca perché dopo bitcoin è l'asset con più alto investimento, cresciuto molto in questo ultimo periodo. Guardate quanto siano cresciuti gli investimenti nell'ultimo periodo da parte di istituzionali in pratica. Quindi quando si dice che gli istituzionali entreranno in questo settore e cominceranno ad investire in questo settore lo stanno già facendo. In totale ci sono 1.68 miliardi quindi 1.680 milioni di dollari investiti da investitori istituzionali nel settore delle crypto. E state certi che quando questi dati cominceranno a diffondersi di più sempre più persone cominceranno ad interessarsi e anche ai grandi investitori perché funziona un po' come per i retail anche i grandi investitori se vedono che il trend è quello di investire e differenziare in questo settore per avere un certo salvagente per diversificare bene ne inizieranno a fare sempre di più e in questo momento di crisi dove questo potrebbe essere una sorta di edging rispetto alla tecnologia vecchia questo interesse aumenterà e questo è molto importante perché stanno confluendo diversi aspetti tutti insieme dall'alvin di bitcoin a una crisi finanziaria in arrivo alla scoperta di questo asset tutte queste cose messe insieme potrebbero portare veramente a qualcosa interessante nei prossimi anni è una crescita più esponenziale di quella che ci aspettiamo questa è la mia visione ovviamente il discorso come ho fatto altre volte potrebbe essere anche molto divergente tra una crescita enorme e invece un fallimento del settore stesso ovviamente il rischio è altissimo da questo punto di vista perché non è detto che il sistema cambi del tutto ma tornando al nostro articolo quello che dobbiamo capire è che principalmente per fare una critica alle cripto bisogna prima capire come funzionano le fiat currency e questa è questa parte che lo stesso autore ci vuole sottolineare se non capisci come funzionano le fiat currency le monete che utilizziamo tutti i giorni il dollaro l'euro allora non sei qualificato non siete qualificati a giudicare se le cryptocurrency saranno di successo o no punto in più se non capisci il meccanismo del mining della tecnologia sottostante che sostiene le cripto e l'economia delle cripto la sua scarsità a quel punto non si può capire perché potrebbe essere una rivoluzione questa frase potrebbe diventare il mio slogan prima cerca di educarti su quello che c'è sotto questa tecnologia e come le cose stanno cambiando quindi apprezza la tecnologia e la sua rivoluzione quello che porterà altrimenti se non si apprezza questo se non si apprezza il perché Bitcoin nasce se è solo un'altra l'ennesima persona che cerca di fare qualche dollaro di speculare qualcosa e fa più danno al settore che altro perché effettivamente se si approccia a questo settore investendo quando Bitcoin sta a 6.000 e lamentandosi quando arriva a 5.000 e di nuovo fomentandosi quando va a 6.100 e poi lamentandosi quando va a 5.500 non abbiamo capito quasi nulla di quello per cui Bitcoin nasce perché il controvalore in dollari di un qualcosa che è una tecnologia vecchia che potrebbe anche sparire è relativo è veramente relativo d'altronde se quei soldi servono subito perché come mezzo di scambio servono per fare qualcosa quindi per mangiare per fare la spesa per coprire delle spese è anche un azzardo andare a metterli in Bitcoin quindi non vedo l'utilizzo e l'interesse di guardare il prezzo giornalmente ovviamente perché dà felicità quando feci il video parlandovi anche facendovi vedere il pensiero di quella grande balena fondatore di Bitcoin Swiss che vi leggo a questo video qui lui è felice perché ogni volta che il prezzo sale oltre alla propria sensazione di sentirsi più ricco in controvalore e quello rimane ma soprattutto perché si sa che se il prezzo è salito e questo è quello che penso anche io ogni volta che vedo il prezzo che sale vuol dire che più persone sono entrate nel settore c'è più domanda e quindi il concetto e la conoscenza di Bitcoin si sta espandendo è quello quello che conta più di tutti ma prima bisogna educarsi sul sottostante e perché questa tecnologia ha valore altrimenti sarebbe veramente una bolla sarebbero come tulipani la bolla dei tulipani olandesi arriviamo al punto di quest'articolo la parte più bella il successo di questo sistema è contingente al capire che nella storia dell'innovazione è sempre successo che una tecnologia o innovazione migliore ha sempre distrutto quella che esiste nel momento corrente quella vecchia se un sistema è migliore esponenzialmente migliore soprattutto se è esponenzialmente migliore non ci sarà mai nessun blocco al progresso non ci sarà nessuna cosa che potrà mai fermare quel cambiamento questa è la stessa ragione per cui google ha soppiantato yahoo per cui facebook ha soppiantato myspace e per il quale per il motivo per il quale bitcoin e ethereum andranno a distruggere i soldi per come li conosciamo oggi quindi il vecchio contante nello stesso modo in cui amazon ha praticamente cancellato i retail sta veramente prendendo il dominio sulle vendite a dettaglio allo stesso modo le cryptocurrency andranno a cancellare quello che è il vecchio sistema bancario che o si evolve si adatta a questa nuova concezione o tutti i sistemi che rimangono in qualche modo con una concezione vecchia verranno eradicati se non vedi questo concetto non stai facendo abbastanza attenzione probabilmente non hai studiato e non hai capito come funziona il meccanismo bitcoin o ancora prima non hai capito come funziona il sistema delle fiat che è una tecnologia vecchia qui ci dice alla fine le crypto sono semplicemente un upgrade un aggiornamento e lo vediamo e torniamo all'immagine iniziale che vi ho fatto vedere all'inizio di questo articolo questo articolo come vi dicevo è stato scritto il 5 settembre del 2018 ha ancora più senso oggi probabilmente chi ha letto questo articolo nel 2018 ed approcciato in modo superficiale dopo qualche mese ha detto si 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 vede proprio come è cambiato come bitcoin è cambiato perché questa è un'altra frase che mi piace tantissimo si tende tantissimo a sopravvalutare lo short term quindi il periodo breve e sottovalutare quello che l'impatto di una tecnologia potrebbe avere a lungo termine tenete sempre a mente questo grazie a tutti